Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Jessica Selassie sorprende tutti, altro che Baru. Ormai l'ex Jeffino è acqua passata, la principessa etiope beccata a baciarsi proprio con lui. Un uomo famosissimo e pieno di soldi. Ecco di chi si tratta. Scopriamolo.Jessica Selassie.Jessica Selassie ha lasciato tutti a bocca aperta. Avete visto con chi è stata beccata la ex Jeffina? A baciarsi proprio con lui. Un uomo famosissimo e soprattutto ricchissimo. Ecco chi è il suo nuovo amore. Jessica Selassie è volta pagina dopo Baru.La vincitrice della sesta edizione del grande fratello VIP è oggi una delle protagoniste indiscusse del mondo dei social. Insieme alle sorelle Lulu e Clarissa, la ex Jeffina si è fatta conoscere per le sue fragilità e per la sua dolcezza, ma soprattutto è diventata nota ai telespettatori per il suo sentimento non ricambiato nei confronti di Baru della Gerardesca, il nipote del più noto Costantino della Gerardesca. Jessica Selassie.Sebbene in casa Jessica e Baru abbiano stretto un rapporto di amicizia molto forte, la principessa avrebbe voluto che la stessa si trasformasse in qualcosa di più serio, ma ha ricevuto un clamoroso palo dall'enologo che con lei, ancora tutt'oggi, continua a sostenere di non volere nient'altro che una semplice amicizia. La Selassie pare ormai essersi rassegnata a questa condizione, e dunque ha voltato pagina. Sapete con chi è stata beccata a baciarsi? Proprio con lui. Un uomo famosissimo e pieno di soldi. Ecco di chi si tratta.l'x Jeffina beccata a baciarsi proprio con lui. Jessica non smette di essere al centro dell'attenzione da quando i riflettori della casa più spiata d'Italia si sono spenti. La vincitrice della sesta edizione del GF VIP 6 continua ad essere sulla bocca di tutti. Dopo il clamoroso palo ricevuto da Baru della Gerardesca, il suo cuore, ora sembra appartenere ad un altro. Avete visto con chi è stata beccata l'ex Jeffina? Proprio in sua compagnia, con Giacomo Ortiz. Giacomo Ortiz.Ebbene, nelle scorse ore, il noto chirurgo dei VIP, così come è conosciuto nel mondo dei social e della televisione, ha pubblicato uno scatto in compagnia della sua principessa. I due, belli più che mai, si sono lasciati immortalare seduti uno accanto all'altra e con le bocche che quasi si toccano, scambiandosi un bacio. Lo scatto ha fatto il giro del web e ha suscitato commenti positivi e complimenti. La coppia Jessica Giacomo è sempre stata sostenuta dai fan. Anche Ortiz ha preso parte all'ultima edizione del GF VIP, quella vinta dalla principessa. I due fin dall'inizio si sono mostrati molto legati, complici e affiatati. Fuori dalla casa del grande fratello hanno continuato la loro amicizia e spesso partecipano insieme ad eventi pubblici. Lo scatto è piaciuto tantissimo ai sostenitori dei due ex Jeffini. Jessica continua ad essere apprezzata per la sua dolcezza e per la sua sensibilità. Solo qualche giorno fa si è lasciata immortalare anche in compagnia di Giukas Casella, altro protagonista del famoso reality di Cinecittà che non vedeva dalla fine della trasmissione. Proprio lei ha organizzato una reunion con l'illusionista più famoso d'Italia che ha lasciato tutti senza parole. Il cuore buono di Jessica la rende ammatissima da tutti.Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.